Ciao Roberto, buongiorno, complimenti per la vittoria. Così a caldo, Bologna oggi ha saputo unire il solido equilibrio di gioco e di consapevolezza di essere dentro la partita con una spensieratezza, leggerezza, con una capacità anche di provare delle cose che magari fin qui si erano viste raramente ed erano quelle cose che tu chiedevi. Sono state queste le caratteristiche? Beh, è stato il fatto di aver preparato la partita in un determinato modo, anche sapendo che, come avevo detto anche ieri in conferenza stampa, l'Udinese è una squadra che se gli concedi spazio, gli concedi le ripartenze, può essere pericolosa, però che poteva anche soffrire questo. Al primo minuto abbiamo sfruttato subito una bella occasione, è partito con grande determinazione, non sa sulla destra, sono stati bravi in mezzo, non so se era Craici e Verdi, a inserirsi e quindi a costringere una linea difensiva ad andare a proteggere la porta, lasciando libero lo spazio per Mattia che ha trasformato. E' chiaro che quando parti con un gol subito le cose dal punto di vista mentale ti aiutano, no? Poi abbiamo fatto anche il secondo gol all'ultimo minuto del primo tempo e tutto è diventato un po' più semplice, però temevo la loro reazione nel secondo tempo e invece siamo stati sempre belli sul pezzo, sempre quadrati, abbiamo concesso poco, siamo stati incisivi, siamo stati convinti di poter giocare la palla anche quando era giusto fare, che secondo me si può fare ancora e si deve fare meglio da questo punto di vista, però la prestazione è stata ottima e quindi sono contento per loro, si sono meritati questa salvezza, quattro giornate dalla fine, matematica e quindi da qui dobbiamo ripartire, ricostruire e continuare a costruire qualcosa. Nell'arco di una stagione si sono fatte tante considerazioni, tanti chiacchiere, non sono uno che ama vivere di chiacchiere ma di fatti e di cose concrete, quindi guardo avanti con grande serenità e vediamo cosa accadrà. E' questo il destro che vuoi? No, io sono convinto che Mattia possa fare ancora di più, non mi accontento di questo destro e come ho detto prima ai vostri colleghi della televisione, io non mi fermo solo al fatto che Mattia Destro faccia dei gol, l'ho detto settimana scorsa e l'ho detto in altre circostanze, Mattia Destro non deve pensare che la sua partenza sia il gol, ma il gol è soltanto l'arrivo, e il gol arriva soltanto se tu ci metti grinta, determinazione, voglia, rabbia, voglia di soffrire, tutte queste componenti che sono imprescindibili oggi. Se tu hai già queste hai già fatto 70-80% e quando tu a queste cose riesci a dare continuità allora sei un grande giocatore, un ottimo giocatore, non un grandissimo magari ma un ottimo giocatore e poi quando hai i mezzi e le potenzialità tecniche di Mattia Destro diventi un grande giocatore. Buonasera mister, insomma la sua squadra, già Bergamo aveva giocato una buona partita, le dico i numeri, quasi come Bergamo, 11 tiri se ti rimporta, ha concesso pochissimo l'Udinese, abbiamo parlato di Mirante, me la ricordo all'84esimo, è un atteggiamento questo che si può vedere nelle prossime quattro partite, anche perché le dico che lo saprà la sua squadra è salva da oggi perché il Crotone non può più prendere, insomma adesso bisogna che il campionato si concluda. No, bisogna solo continuare così e non pensare che una partita vinta bene come l'abbiamo vinta questa sia qualcosa di straordinario ma deve essere la normalità, non vincere perché vincere non è una cosa di tutti i giorni, non è una cosa normale ma avere l'atteggiamento di questo tipo e quindi quanto più noi riusciremo a dare continuità a questo allora poi ci toglieremo sicuramente altre soddisfazioni anche con squadre che stanno più avanti di noi magari in classifica ma questo deve essere il modus operandi, se non hai questo atteggiamento qui sempre è chiaro che sei costretto o meglio, sei portato ad avere tanti alti e bassi e gli alti e bassi vuol dire che non hai un grande equilibrio, che non hai una grande convinzione nei tuoi mezzi, nelle tue possibilità e questo è un salto di qualità che bisogna cercare di colmare, di fare e di raggiungere quanto prima. Roberto, in definitiva 38 punti a un mese dal termine del campionato, può essere un bilancio in linea con le attese o ti aspettavi qualcosina in più? No, ma io non mi aspetto mai qualcosa di più perché poi fare qualcosa in più dipende anche molto dagli avversari, dalle altre squadre quindi io credo che se a inizio campionato avessimo detto che a quattro giornate alla fine siamo matematicamente salvi, tutti quanti avremmo messo la firma, tutti saremmo stati contenti di questo, però poi è giusto non accontentarsi mai, non ci si deve mai accontentare ma per quanto mi riguarda è giusto anche non stare a fare calcoli matematici perché poi ogni partita può riscontrare cose differenti, basta vedere il cammino delle squadre che stanno dietro, il Crotone cosa sta facendo, oggi con il Milan ha pareggiato, in casa stanno facendo un ottimo campionato, si sono rimessi in gioco ancora per la salvezza quattro giornate dalla fine, quindi tutto è sempre aperto e tanti punti in paglio vogliono dire ancora tante cose che tu devi cercare di ragionare gara dopo gara, giornata dopo giornata senza pensare di lì facciamo uno, la pareggiamo, la possiamo permetterci di perdere, non è così che funzionano le cose, a me piace ragionare e quindi questo tipo di concetto lo porto anche ai ragazzi. Mi spiega la scelta di Mbai a sinistra, la scelta tecnica di Masina in panchina, la scelta sua? No, semplicemente perché Masina non stava bene, non era meglio e quindi Ibra si è comportato molto bene sia a destra che a sinistra e questo mi piace, è chiaro che giocare a destra spesso con i tiri ti trovi ad avere la corsia esterna sul tuo piede preferito, a sinistra un po' meno, ma questo vuol dire crescere, mi ricordo quando avevo l'idormo allenatore che mi diceva bene, quando magari qualcuno gli diceva mi fa male il piede sinistro, perfetto, tu ora impari a giocare di destra, è così, sembra banale, sembra sciocco, ma è la verità, quindi se uno sa giocare a destra, sa giocare a sinistra e poi magari può anche fare il centrocampista come ha fatto Craici, vuol dire che nel momento del bisogno e della necessità ha più chance di giocare di un altro e questo è il vantaggio che ogni professionista deve cercare di raggiungere. Sì, ciao mister, due cose, una è riferita a Torosidis, è uscito per motivi fisici o per scelta? Sì, ha preso un colpo che non riusciva più ad andare avanti. E senti, secondo me una delle chiavi al di là poi del destro ritrovato, un po' Don Sacchi ha limitato tantissimo Ianto che era l'uomo più in forma dell'Udinese. Sì, siamo stati aggressivi, siamo stati ordinati, siamo stati bravi lì in mezzo, anche se nel primo tempo quando poi loro si sono messi col 4-4-2 non abbiamo avuto i tempi di uscita come avrei voluto e non c'è stata molta connessione in quello, spiegavo a Baie cosa dire in mezzo e soprattutto su Alfreston arrivavamo spesso un po' in ritardo, invece bisognava essere un po' più aggressivi perché poi bastava con i due attaccanti mantenere Maietta e Gastaldello in marcatura e con il supporto di Viviani davanti e quindi gli altri due centrocampisti si dovevano prendere Taider insieme a Don Sacchi, invece a volte non siamo stati belli organizzati da questo punto di vista, abbiamo concesso loro la possibilità di giocare qualche pallone di troppo, però poi non abbiamo mai corso grandi rischi, anche se essendo un po' più aggressivi e ordinati voleva poter dire anche crearsi qualche presupposto in più anche in fase offensiva Ti voglio dire questo Roberto perché se uno guarda i numeri oggi Bologna ha anche un punto in più a quattro partite dalla fine rispetto a un anno fa, però la percezione che non fanno soltanto i giornali o la critica è quasi di un'annata che invece in questa seconda parte di stagione si è colorata molto di grigio, secondo te perché? La mia idea è che anche questo senso di impotenza forse nei confronti dei grandi, oppure anche pomeriggi come oggi che se fossero stati più frequenti probabilmente... Per quanto mi riguarda a me non è colorata di grigio quindi non ho da dire qualcosa di più che poi la critica o qualcun altro dica che è stata colorata di grigio, siamo un po' sempre le solite considerazioni dove giustamente uno le può fare, è libero di farle e poi dalle sue dimotivazioni, non devo poi spiegare io quelle che sono le considerazioni di altri. Grazie, buonasera.